Siamo alle nostre breaking news, subito in apertura, la situazione è abbastanza pesante, al San Donato è stata aperta l'area Covid-3, il primario di Pneumologia Scala dice che le varianti fanno aumentare i casi e dunque anche le ospedalizzazioni, è un'area dove saranno collocati i pazienti meno a rischio. Parlando di Covid, trascorso un anno dal famoso lockdown e le restrizioni stanno facendo danni pesanti, ovviamente purtroppo all'economia c'è in vista una nuova zona rossa, il Presidente Gianni ha convocato per le 21.30 i sindaci dell'Aretino. Infine l'eccellenza, dal sabato di Pasqua il campionato dovrebbe ripartire anche in provincia di Arezzo, non ci saranno Baldaccio, Bruni, Anghiari e Foiano che hanno deciso di non farlo, solo girone di andata e niente retrocessioni. Tutti i temi saranno approfonditi nei nostri TG successivi, rimanete con noi e con le nostre trasmissioni. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.